Panico nel mondo diplomatico a Londra. La banca britannica HSBC è pronta a chiudere i conti di oltre 40 ambasciate consolati con sede a Londra, tutti fedeli correntissi da decenni dell'istituto. Tra i clienti sgraditi della banca ci sarebbe anche l'annunziatura apostolica sul Tamigi, l'ufficio di rappresentanza del Vaticano. Lo ha riportato ieri il Mail on Sunday. Secondo l'indiscrezione, HSBC avrebbe avvertito diplomatici, lasciandogli 60 giorni di tempo per ritirare i loro depositi. La ragione? La fonte della società citata nell'articolo spiega che si tratta semplicemente di una questione di convenienza e dunque di revisione del portafoglio clienti. Tuttavia, c'è già chi suggerisce che la decisione ha a che fare con un possibile rischio di riciclaggio. Per qualche motivo, infatti, le ambasciate e la stessa Santa Sede sarebbero considerate ad alto rischio sotto questo profilo e quindi troppo pericolose per rimanere tra i clienti della banca, soprattutto dopo che questa è stata multata per 2 miliardi di dollari negli Stati Uniti per mancata vigilanza sulle attività di riciclaggio.